In questa puntata speciale di L'Arte TV sono qui per mostrarvi le opere dell'artista Giovanna Stefanotti. C'è una luce tersa a tratti metafisica che pervade la pittura di Joe Stefan, un bagliore che illumina lo spazio, gli arredi, gli oggetti ed in particolare i protagonisti che dialogano con l'ambiente circostante e con l'osservatore alimentando il senso di un tempo sospeso e infinito. I ritratti in un interno sono colti con una visione nitida che ricorda nella struttura formale gli ecchi dell'art deco. Nella serie dedicata al cinema retro il tocco stilistico di Joe Stefan assume una fisionomia internazionale, liberamente ispirato alle dimensioni misteriose ed iperrealistiche dell'artista scozzese Jack Vetriano, senza tralasciare l'ingrandimento di immagine del filone pop. I fotogrammi di alcuni celebri film hollywoodiani vengono riprodotti sulla tela come attimi incantati di un'azione o di un dialogo tra personaggi. Poi ai margini della superficie pittorica vengono sovrapposti pensieri della letteratura che assumono nel contesto del dipinto una nuova inedita interpretazione. Con la forza dell'immagine si ricostruisce il contesto, la scena diventa il luogo ideale delle azioni umane dove tutto può succedere.